Dal basket alla palla a volo per il super rientro di Juan Torena a Modena nella vittoria al tie-break contro Milano. Lo sentiamo nel servizio di Maurizio Colantoni. Quello sguardo ironico, quel braccio da fenomeno. Per Osmani Juan Torena è il ritorno in Italia. Ha vinto tutto con Trento e poi con Civitanova. Era in passato un avversario temibile. Oggi è l'idolo del tempio di una Modena che vuole tornare protagonista. Soffrendo ma bella vittoria, bella vittoria. È stato per me soprattutto molto emozionante scendere in questo palazzetto. Dopo due anni fuori all'Italia, sai, tornare a giocare a questi livelli è molto bello. Tutti i tifossi che cantano insieme a te dopo tanti anni di avversario, sai, è roba da non crederci. Però è così, questa è la vita, questa è lo sport e sono contento di essere qua. Tornato nel nostro campionato. Ti mancava da Shanghai alla Superlega? Ti mancava la Superlega? Eh, la seguivo spesso, la seguivo spesso. Quindi sì, mi mancava anche perché io sono uno che amo questo sport e quindi mi piace mettermi alla prova. E questa scelta è fatta anche a questo, per mettermi alla prova e vedere dove posso arrivare in questo anno, in questo campionato. Hai vinto tutto, in Italia hai vinto tutto. Da Trento a Civitanova, adesso sei a Modena. Io non ti dico di fare promesse, però un pensiero nella tua testa, al di là del tuo rendimento, quale potrebbe diventare? Sappiamo che vogliamo arrivare in alto, però un mattoncino alla volta, senza montarci la testa perché il cammino è molto lungo. Lo spirito è del ragazzino. Sempre, quello sempre, non lo prenderò mai, quello sempre.